Come ci si prepara a questo appuntamento sportivo? Come si arriva a livello di tensione, di preparazione atletica? Sì, sicuramente prima di disputare una competizione del genere c'è molta tensione, ma allo stesso tempo bisogna prepararsi in maniera adeguata per cercare di arrivare nella miglior condizione possibile a questo campionato del mondo. E diciamo che sono stato aiutato tantissimo dai miei allenatori, ma allo stesso tempo anche dal mio psicologo e dal mio preparatore atletico. Sei uno dei medagliati, no? Che emozione hai provato? Beh, sicuramente ogni volta che si sale sul podio è un'emozione grandissima, soprattutto quando si sale sul podio rappresentando l'Italia.